La Val Sangone crede nella riscoperta e nella valorizzazione della cultura spirituale e materiale locale. A Coazze la riscoperta del formaggio Chevrin, inserito vent'anni orsono nel paniere dei prodotti tipici dell'allora provincia di Torino, è simboleggiata dalla festa rurale che ogni anno anima la stagione autunnale. In vista della nascita del nuovo distretto del Cibo, che comprenderà le valli che vanno dal Moncenisio al confine con la provincia di Cuneo, i casari puntano anche sull'innovazione, ad esempio con mirtilla, una particolare cacciotta a pasta molle prodotta dal caseificio artigianale Fior di Latte con latte vaccino, con l'aggiunta di confettura di mirtilli a pezzi. Al circolo chalet dei Cusinot, il nuovo formaggio, stagionato 60 giorni, è stato presentato ufficialmente alla stampa, agli amministratori locali e ai rappresentanti della Val Sangone in consiglio regionale e in Parlamento. In abbinamento, lo chef del circolo ha preparato la cipolla ripiena d'eco di Coazze, mentre i panificatori di Giaveno e Coazze hanno presentato il pane d'eco e i biscotti del pellegrino. Sindaco, siamo qui in cucina perché la cucina è importante per Coazze, perché Coazze ha i prodotti da trasformare in una cucina come questa. Certo, noi siamo ricchi di prodotti, ma soprattutto siamo ricchi di prodotti di nicchia. Noi, come avete avuto modo di vedere, abbiamo e creiamo, quando non li abbiamo, dei prodotti particolari. Il nostro prodotto principe è, come tutti sanno, il cevrin di Coazze, ma avete visto questa sera come la gente cerca di ingegnarsi per trovare dei prodotti diversi, per trovare, come questa sera, il formaggio con i mirtilli, la tomba con i mirtilli, un gorgonzola particolare che non ha il caratteristico colore blu. Magari a tanta gente non piace quel colore blu, noi abbiamo il gorgonzola che di blu non ha assolutamente nulla, per non parlare del pane, per non parlare delle castagne, ma il bello di tutto questo è che sono tutti i prodotti che noi abbiamo sulla nostra montagna. Abbiamo oltre i mille metri, quindi sia le castagne, che sono proprio al limite, al limite, al limite, perché più in su non crescono più, le patate, che invece le patate di montagna hanno una caratteristica particolare, e, logicamente, tutti i prodotti di animali che vengono regolarmente apportati in alpeggio. Questa è la caratteristica che dà ai nostri prodotti quel gusto particolare, perché quello che mangiano in montagna è diverso da quello che possono mangiare in pianura. Ramona Giacone, dunque, questa sera lei è la protagonista con questa cacciotta mirtilla, intanto con che latte è prodotto e poi come viene trattato il mirtillo per essere inserito nell'impasto? Allora, la mirtilla è principalmente un formaggio a latte crudo di latte vaccino. I mirtilli vengono trattati come una classica confettura, vengono messi e fatti bollire con lo zucchero in modo che non si trasformino poi nella stagionatura, non producano muffe. Facendo così, nella stagionatura del formaggio non si muovono più, però rilasciano l'acidità giusta nel formaggio. Allora, invogliamo qualcuno a venire a Coazza a comprarlo, questo formaggio. Che sapori, che sentore diverso dagli altri può dare il mirtillo? Il mirtillo dà quel gusto un po' acidulo, un po' quel sprint che negli altri formaggi, secondo me, non c'è tanto. Andrebbe un po' più stagionato oggi, purtroppo siamo un po'... però è da assaggiare, va bene da mangiare così, va bene abbinato alle composte, è sciolto, qua fanno anche la pizza così, funziona molto. Diciamo che bisogna venirlo a cercare da voi, c'è molta ricerca dietro questo formaggio, quanti anni di lavoro, di pensiero, di prove ci sono dietro? Nuovo è nuovo, tre mesi che lo produciamo, però ha riscosso un successo non indifferente, volevamo presentarlo appunto alla festa del Cevrini di quest'anno, sarà il protagonista dei nostri cesti natalizi.